Grazie Grazie Allora come dicevo già da molte volte ormai fino ad oggi leggo sempre per iniziare una piccola pillola di saggezza o comunque un qualcosa che non necessariamente ha riferimento anzi quasi mai a riferimento con i temi trattati poi ma che è così, un momento di riflessione o comunque un qualcosa di inaspettato che ci regala la saggezza millenaria dell'Estremo Oriente. Quindi la 101 storie zen, vi leggo brevissimo, la cosa più preziosa del mondo, numero 70 delle 101 storie zen. Uno studente domandò a Shozan, un maestro cinese di zen, qual è la cosa più preziosa del mondo? Il maestro disse, la testa di un gatto morto. E perché la testa di un gatto morto è la cosa più preziosa del mondo? insistette lo studente. Susanne rispose, perché nessuno può dirne il prezzo. Ecco qua, con questo che anche fa un po' sorridere, però in effetti in questo mondo dove tutto ha un prezzo, la testa di un gatto morto sicuramente non ce l'ha. Dovrebbe fare riflettere un pochino. Dunque, siamo al 15 di luglio, una breve riflessione mia sull'attualità delle centinaia di notizie che poi trovate sempre dalla cura del nostro regista Rosario con la segna stampa. Sicuramente avrà parlato, non l'ho seguita oggi, cerco di farlo, ma non sempre poi riesco. Il fatto è che ieri è stata la giornata della presa della Bastiglia, quindi festa in Francia. Avrete visto tutti la parata militare e anche i gilet gialli, cosiddetti, che poi non avevano il punto di gilet, e si sono mescolati tra la gente e hanno manifestato ancora contro Macron, più di cento arresti. E quindi continua quella battaglia che fanno loro, una battaglia anche violenta, però loro continuano a fare questo che può sembrare quasi l'inizio di una rivoluzione, ma non si sa bene come finirà. Di sicuro invece il signor Macron ha fatto questa enorme parata militare con l'obiettivo e ci ha tenuto a farlo sapere che è in vista della nascita di un esercito europeo. Non a caso c'era anche la signora Merkel accanto a lui. Su questo io mi sono già espresso, lo considero una cosa molto importante, un esercito europeo, perché potrebbe sganciarci da una parte i piani in atto, anche se non totalmente, però potremmo trovare come... è un modo per unire veramente le nazioni, perché quando si parla di sicurezza e la gestiamo noi, questo è il vero sovranismo europeo che manca. E lui sicuramente non a caso, è lui che spinge di più, perché è lui di tutti i paesi europei, escluso l'Inghilterra che tanto ormai se le stesse ne andrà, ma siede all'ONU nel comitato permanente di chi ancora dalla seconda guerra mondiale ha la possibilità di avere la bomba atomica, perché hanno vinto la seconda guerra mondiale. Ci dimentichiamo tutti di questa cosa. E invece è molto importante, non a caso, appunto lui si fa forte di questo e si tira dietro anche la più grossa economia europea, che è quella tedesca. E con questo, appunto, con la Germania fanno un patto di ferro, non a caso, perché la Germania non può avere l'esercito europeo, non può avere la bomba atomica, perché mi pare che ci è successo qualcosa nel loro paese 70 anni fa, hanno perso la guerra. E questo crea un connubio non banale che poi ha ricadute sull'economia, perché se è vero che noi siamo la seconda manifatturiera d'Europa e non lo è la Francia, sicuramente la Germania dà una grossa mano alla Francia, perché superi l'Italia. E questa è una cosa che va tenuta presente e che dobbiamo combattere in qualche modo. Non è che ci sia bastato avere il presidente della comunità europea, italiano, non è che ci sia tanto. Ci sono molti giochi e le vedremo delle belle, secondo me, nei prossimi mesi e nell'anno a venire. Bene, detto questo, passiamo ad analizzare il problema di oggi, però con un intermezzo che ci tengo a fare anche qui. Se è vero che il problema globale, ormai il più importante è il terrorismo, la carenza di fonti energetiche, ma in questo senso il problema globale che abbiamo sotto gli occhi di tutti e che non ancora globalmente non sappiamo gestire. Ogni paese si muove a modo suo, purtroppo non ci sono accordi globali in questo senso, ma il problema è quello dell'ambiente e del deturpamento dell'ambiente, cambiamenti climatici e quant'altro. In questo senso vi ricordo così che a Bologna, fra l'altro è gratuita l'entrata, c'è una mostra che è prevalentemente fotografica, ma non solo, è anche pensata per i ragazzi con esempi didattici legati anche alla realtà aumentata, quindi intriganti per questi piccoli digitalizzati che sono i nostri figli e i ragazzini o i nostri nipoti in questo caso, su quanto mi riguarda, visto che non sono giovanissimo. Questo è sicuramente il problema di questi anni, guardavo ieri un filmato su Rai 5, parlavo dell'Antartide e di tutte le possibilità che ci sono lì di capire come i cambiamenti climatici hanno ricadute poi anche nei movimenti dei ghiacci nell'Antartide. Un dato anche abbastanza triste per quanto mi riguarda, voglio bene agli animali, come tanti di noi, ma agli animali non necessariamente a quelli che ci portiamo indietro nelle strade, io non ho un cane, voglio bene ai gatti, va bene, ognuno fa le sue scelte, però ci sono tante specie che sono a rischio, in questo caso non sono a rischio, però è una cosa grave quello che è accaduto nel 2014, i pinguini imperatore che sono i più massicci, i più grandi, pensate che un esemplare adulto arriva fino a 1,20 m, sono veramente possenti e sono quelli che sono i più resistenti al freddo, però i piccoli, i piccoli se non sono imboccati dagli adulti, dai genitori e siccome nascono non con la livrea normale, quella che gli serve e che è assolutamente impermeabile, che serve ai pinguini adulti per andare sott'acqua, ma con delle piume, anche se che servono per essere resistenti al freddo, però se non con i genitori vicini possono morire sia di fame che di freddo. Infatti nel 2014 c'è stato un'ecatombe di questi pinguini, di questa razza qui, fino al 95% sono morti e perché in quel caso lì uno pensa all'esplosimento dei ghiacci, noi in questo caso fu il contrario, nell'Antartida ci sono delle zone che il ghiaccio si apre, rimane un punto dove gli uccelli, i pinguini e focche possono inabissarsi per andare a prendere pesce, sono come dei laghi chiusi, in questo caso un'andata di freddo ghiacciò tutto e quindi i pinguini camminando e scivolando dovevano fare fino a 20-25 km per raggiungere il mare aperto e in questa distanza, pensate, i pinguini non è che camminano molto bene, sono anche ridicoli nel loro camminare e simpatici, purtroppo quando sono tornati il 95% dei piccoli era morto. Questo è il problema fondamentale sotto vari aspetti, magari in una trasmissione cercheremo di affrontarlo. Mentre invece questa trasmissione si lega un po' a altre fatte e affronta ancora e ancora ci sarà sempre motivo di affrontare questa problematica che è quella della digitalizzazione del mondo e di quello che accade nel momento in cui tutti noi, ma purtroppo i giovani di più, stanno tanto tempo collegati con i device, con gli smartphone e tutte le macchine digitali che ci sono. Mi rifaccio a un inserto del Corriere della Sera recente, dove il Corriere Salute vengono affrontati e quindi lo premetto, parlerò di questo aspetto come viene riportato, in maniera fra l'altro molto valida chi ne parla, citazioni da testi scientifici, ricerche consolidate e non cose all'impronta o non professionali. e quindi c'è una battaglia veramente aperta su cosa battaglia. Ci sono ricerche aperte e alcune sono veramente un po' inquietanti, pur sappiamo che la digitalizzazione apre anche delle frontiere positive, nella medicina, nella salute, ne abbiamo già parlato, anche la robotica aiuta in questo senso. Però pare che ci siano delle evidenze che sicuramente il numero di ore o di tempo che comunque si passa con i device con il PC o con il smartphone, girovagando per internet o stando attaccati ai social, quello che è, sicuramente diminuisce il livello di attenzione e aumenta in generale la distrazione. e queste sono due cose che dette così paiono scontate, ma il problema è che purtroppo non solo queste cose qui, ma in questi articoli ci va a indicare come vengono modificate addirittura o lentamente, si stanno modificando proprio alcune funzioni cerebrali. Parliamo di Ippocampo, di Agmigdala, di zone del cervello deputate alla memoria e alla capacità di concentrazione. E quindi vengono modificate. Questo è un dato che verrà monitorato, ma che per ora, che già adesso dà delle evidenze inconfuttabili. Su questo io non do un giudizio. Invito alla riflessione come sempre, come sempre facciamo come stile di radio, invito alla riflessione e alla ricerca di ulteriori informazioni che possono corroborare quello che sto dicendo, confermare o disconfermare, perché noi siamo qua aperti e siamo contenti se sconfermate quello che diciamo. Noi cerchiamo di fare un lavoro il più possibile equanime e approfondito, però siamo umani appunto. Finché rimaniamo umani, mi viene da dire, perché come qua mi viene indicato, noi creiamo gli algoritmi e loro sempre di più creano noi. Così detto sembra uno slogan. Però di fatto vi leggo qualcosa in diretta, perché sicuramente le parole, come se fossimo al bar, come cerchiamo di fare, a volte invece ci vuole un pensiero ben definito. Allora, in realtà, dice questo autore che è Luigi Ripamonti, nel frontespizio di Corriere Salute, di Corriere della Sera, della Settimanasco, forse per l'altro, in realtà stiamo cedendo progressivamente a entità algoritmi che ci creano in qualche modo, che guidano il nostro comportamento e lo influenzano sicuramente. progressivamente a entità algoritmi anche la gestione di funzioni amministrative, comunicative, sociali, fra cui istruzione e appunto salute. Si crea quindi un paradosso, perché siamo e saremo sempre più esecutori di compiti che ci vengono assegnati dagli algoritmi. E più ci colleghiamo a sistemi algoritmici, più essi rafforzano la nostra dipendenza da risorse esterne. Oggi però per la memoria delle decisioni, domani, ma anche già ora, per il desiderio stesso. Una cosa banale che mi è capitata sei mesi fa, semplicemente avevo ricordato che avrei compiuto gli anni, non mi ricordo, con qualche amico, un compleanno importante, perché è un decennio della mia vita. La settimana dopo mi vedo presentare, da una ditta sconosciuta, non so che, una bellissima t-shirt, ricordando che sono nato nel maggio tal dei tali, sto diventando anziano, però me la cavo molto bene, più o meno una cosa così bellissima, me la compro. Insomma, con pochi dati, solamente la data di nascita, sanno che tu avresti gradito un t-shirt di quel tipo lì, per come poi ti interagisci. Quindi anche quello che ci veniva scritto, che non vi ho detto tutto, però insomma era data per me e l'ho comprata. Perfetto. Quindi siamo già a questo punto, a livello di marketing, parlavo anche con dei colleghi al lavoro che si occupano di queste cose, e già insomma ci sono algoritmi avanzati che fanno una precognizione di quelle che saranno i tuoi interessi, o di oggetti o di vestiario. La raccolta dei dati vengono messe in queste machine learning, queste macchine che apprendono, e le risposte sono queste, vendere comunque. Quindi questo è già così. Quindi il desiderio stesso, ma poi pensiamo a tutto il mondo dei social legati magari, mi viene in mente mitici, il più importante che mi è capitato di vedere, il social per gli incontri. Già da lì le tipologie di persone che vai cercando, sono tutti dati che se non crittografati e non ci fai attenzione, vengono tutti messi in queste macchine incredibili che informazioni su informazioni, loro apprendono dai dati e vengono successivamente mandati a altre macchine più sofisticate, che alla fine ti dicono questa è la donna giusta per te e non ci sbagliano molto. Questo è il problema. Allora l'anima gemella è già sul piatto. Perfetto direi. Bene, vorrei dire delle cose in questo senso, ma lascio perdere perché sulle cose, sull'amore, sulla sessualità, ci sarebbe tanto da dire. Comunque se anche il desiderio stesso, il desiderio in quanto tale, il desiderio d'amore, il desiderio della sessualità viene preconfezionato da degli algoritmi, degli algoritmi, insomma il nostro essere umani mi sembra che ne vada un po' abbacchiato. E questo è un po', siccome questi algoritmi sono pensati e hanno la capacità di essere pervasivi, sono creati in questo senso, adesso mi viene da saltare di palo in frasca l'interdelle cose, che significa milioni di sensori attraverso la factory 4.0, le fabbriche 4.0 che sono sempre più robotizzate e digitalizzate. Da qui si parte perché è un miglioramento per gli esseri umani, minor carichi di lavoro, ma alla fine il discorso è abbastanza stricciante, perché finché le governiamo noi, ma chi le governa? Intanto le governano ingegneri informatici o di più, o comunque persone che hanno in mano la gestione dei dati. Ritorniamo al discorso fatto tante altre volte sui big data, stiamo un po' rigirando su queste cose qui, però bisogna insistere, potrei darvi dei dati anche più precisi e sicuramente lo faccio, anche se qui ho visto che sono andato molto avanti con l'orario, purtroppo mi faccio prendere sempre dalle chiacchiere, ma ci tengo comunque a fermarmi un attimo, a veicolare attraverso la radio un pezzo musicale, e lo dedico a un amico che non c'è più, a un amico che ha fatto tanto per Radio Science, sto parlando di Alfredo Stori, che ha fatto più di una trasmissione, che mi ha presentato a Radio Science, dico solo di lui, sono andato al funerale, purtroppo ci ha lasciato all'età di 72-73 anni, adesso non ricordo, ma non ha importanza, era una persona col cuore giovane, era una persona di grande cultura, un'intellettuale, una persona che aveva l'arma dell'ironia, che la portava sempre con sé, un galantuomo comunque, un gran signore, una persona molto aperta, molto generosa. e quindi la ricordiamo, beh per noi per la radio è una perdita, la ricordiamo con questo pezzo che vi invito ad ascoltare, che è musica classica, che lui amava tanto. Grazie. 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 che avete ascoltato con noi questo pezzo musicale. Vi ricordo che l'immagine che avete visto a fianco della trasmissione di Giuseppe, di Alfredo, rimarrà sempre nel palinsetto di Radio Sius, a memoria e ricordo di lui. Non è l'unica trasmissione che ha fatto, ma sicuramente quella che ha portato più avanti, con più interesse, con più voglia, quella che forse gli è riuscita anche meglio è questa qui, Don Quixotte, non mi ricordo il titolo in questo momento, comunque non ha importanza. Comunque rimarrà sempre e quindi come testimonianza che anche la regia vuole avere perché soprattutto Rosario era un grande amico di Alfredo, che ancora qui vogliamo ricordare. Bene, lui ci vuole così, attenti sicuramente e presenti e quindi continuiamo finendo un po' il nostro discorso, anche se potete capire che ci sono veramente tantissime cose da dire, ma io non mollerò questo argomento. Questo argomento lo continuerò a portare avanti perché tocca un po' tutti, speriamo di arrivare anche ai giovani su queste cose. Mi sto leggendo adesso un libro molto importante, questo libro è un po' di 35 breve lezioni di filosofia digitale, il mondo dato di Cosimo Accoto, che è un italiano che però lavora come ricercatore al MIT, al Massachusetts Institute of Technology di Boston, che è molto importante. Già questo libro che è recente, recentissimo, che addirittura cerca di vedere un po' nel futuro, rischia già di essere superato, incredibile perché veramente leggevo prima ad esempio che si è parlato fino a poco tempo fa di cloud e di raccolta dati nel cloud, adesso si parla invece sempre di più di edge computing, cioè a margine, edge sta per a margine, cioè sempre più vicino a noi e addirittura non bypassando, ma comunque portando più vicino ai nostri device, ai nostri computer, in quello che era il cloud, cioè la raccolta dei dati dei server potentissimi che erano magari lontani. Quindi c'era questo scatto, anche se minimo, quando si tratta di sicurezza, in alcuni casi quando si tratta di auto che vengono a guida autonoma, per esempio, oppure dati legati appunto al monitoraggio della salute di una persona che magari ha il diabete, che ha bisogno di monitorare continuamente l'insulina o cose di questo genere, anche uno scarto minimo può essere decisivo per la sicurezza e per la salute. Ma direi che sicuramente gli algoritmi sono nati primariamente, perché quello è puro calcolo per la finanza. E allora avere un'informazione avanzata per decidere dove esportare dei soldini qui piuttosto che là, questo è decisivo, arrivare prima può decidere di un guadagno piuttosto che di una perdita. Quindi diciamo che di suo, e l'abbiamo detto altre volte, la tecnologia e tutte le cose non sono negative, ma sono pensate e utilizzate per quali termini, per quali fini, non lo sappiamo, rimarremo vigili anche noi nel nostro piccolo per seguire l'evoluzione di queste cose. Perché noi accogliamo le novità, le pratichiamo anche, però nello stesso tempo non avendo vent'anni abbiamo una coscienza critica nella quale ci siamo creati e costruiti prima dell'Internet delle cose, prima della realtà aumentata, prima della realtà aumentata, prima di tutto quanto quello che è la rivoluzione digitale e Internet. E quindi questa ce la teniamo cara. Non la mettiamo in maniera ideologica davanti, però nello stesso tempo vogliamo utilizzarla per filtrare le novità e tutto quello che viene proposto e per prenderci le nostre distanze. Questo non vuol dire appunto non negarle o non utilizzarle, ci mancherebbe. Però secondo questo signore, e qui veramente finisco, questo signore che è dunque Ed Finn, direttore del Center of Science and Imagination dell'Università di Arizona, quindi l'Università di Arizona America, dice abbiamo adottato un rapporto fideistico con gli algoritmi, cioè abbiamo una sorta di fede e la fede di solito non è mediata dalla ragione, mi dicono. In questo testo che cosa vogliono gli algoritmi? Gli algoritmi ci guidano nelle città, ci raccomandano i fil da vedere, puriscono risposta alle nostre ricerche. Li immaginiamo eleganti, semplici ed efficienti, mentre sono coacervi, disordinati, che mettono insieme diverse forme di lavoro umano, risorse materiali, eppure anche scelte ideologiche. Attenzione, abbiamo velato la realtà degli algoritmi dietro una nozione mistica del calcolo come verità universale, perché comunque per ora, fino ad ora, macchine di macchine, comunque si parla sempre di calcolo. Poi c'è il deep learning, l'apprendimento profondo, le machine learning che apprendono dall'esperienza, e questo dovrebbe essere la strada di una sorta di intelligenza artificiale. Ma su questo ci fermiamo e rimandiamo a un'altra trasmissione. Un'ultima cosa ancora, dunque, questo signore qui, Eric Sardin, che ha scritto La Siliconizzazione del Mondo, editor Einaudi, che è una casa editrice piuttosto seria, che non pubblica cose che non sono confermate da ricerche approfondite e sostanziate. Allora, questo qui dice, in maniera molto colloquiale, sediamo contenti, o perlomeno passivi, sulle panche di questa chiesa planetaria, sedotti, come sostiene il filosofo francese, a un filosofo questo qua che scrive. Ma infatti la filosofia diventa sempre più importante, visto che mi si dice che ormai il management non è più quello degli ingegneri finanziari, tipo Marchionne, ma quello dei filosofi che abbiano una capacità creativa, che abbiano una forte cultura e una capacità creativa di innovare e trovare nuovi business. Questa è la frontiera. Quindi i filosofi vanno ascoltati anche su queste cose qua. Anzi, direi, visto che questo testo di cui parlavo, cinque breve lezioni di filosofia digitale, questo signore qui, Cosimo Acosta, che pur era un ricercatore tecnico, però è un filosofo di base. Sostituiamo dalla percezione della rete prodotta dall'era dell'accesso, quella con informazioni a costo zero e comunicazione enormemente facilitata, ma l'era dell'accesso sta cedendo il passo all'era della misurabilità della vita. Tutto è misurabile, tutto è unità di misura, tutto è calcolo. A questo sono capaci di arrivare le macchine e calcolare i gesti, i movimenti, gli sguardi, misurare tutto. Se tutto è qui, io sicuramente non avrò un buon futuro, perché in matematica sono sempre stato piuttosto scarsino. E con questa battuta finisco, vi saluto, vi rimando alle prossime trasmissioni e un obiettivo a fine di agosto, se ce la faccio, ci sarà un'intervista doppia, importante, di cui sarà interessato un amico di penna, nel senso che ci siamo conosciuti scrivendo assieme, ma è uno super professionista, è un magistrato, è il presidente della corte d'assise di Bologna, si occupa di Indrangheta e gli hanno dato anche in mano l'indagine sulla tragedia del 2 agosto di Bologna. Quindi è una persona che è molto importante nel discorso magistratura, ma non solo, scrive, scrive romanzi e quest'ultimo romanzo, Quale giustizia? Lo affrontiamo perché lui attraverso varie casistiche, in 30 anni di lavoro, affronta il tema fondamentale, che cos'è la legge e che cos'è la giustizia. E come contraltare, e finisco, ci sarà una persona che avete già conosciuto come scrittore, Franco Nanni, ma che è un psicologo clinico e siccome Michele Leoni, il presidente della corte d'assise, si occupa molto di criminologia, criminologia si è occupato, ma ha insegnato all'Università di Bologna psicologia giuridica, sarà molto interessante e molto stimolante mettere insieme chi fa psicologia clinica e lavora con casi difficili di giovani, cyberbullismo e quant'altro, e un magistrato che si fa domande su quello che è la giustizia e non solo la legge. Ecco qua, con questo saluto, un abbraccio a tutti voi, spero che qualche cosina vi ho lasciato con questa trasmissione, e quindi a fra 15 giorni a Tambur Battente saremo presenti, quindi direi attorno al 30 di luglio. Quindi un saluto alla radio, alla nostra regia e quindi a presto, a fra 15 giorni. Ciao a tutti, ciao! Grazie a tutti!